E' arrivato Fabio, voleva conoscere, ok, ciao Lucy, ciao Fabio, come stai, bene, sto bene, e tu, tutto bene, benvenuto tra di noi Fabio, certo Allora, allora Lucy, che cosa faremo oggi? Faremo un gioco di costruzione di Lego, di costruzione di, di costruzione Lego, certo, andiamo Perfetto, è un gioco da ragazzi Fabio, vado a prendere un po' di fresco Va bene Vieni subito dopo Ok, ho portato fratè, fresco con limone Davvero? E' più rinfrescante Certamente Lucy, che sta succedendo qui? Lucy! Ops Che cos'è il segnozzo? Ops Pas E' più sospisel FGo C'è il segnozzo del segnozzo? E' più sospè C'è il segnozzo? C'è il segnozzo? C'è il segnozzo? Ca bilso-